Mi Illumino di Meno è la più grande campagna di sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici ideata da Caterpillar, lo storico programma di Radio 2. L'obiettivo di Mi Illumino di Meno è diffondere buone pratiche in ambito di risparmio energetico attuate dalle istituzioni, associazioni, scuole, aziende e cittadini attraverso la promozione e la riflessione sul tema dello spreco di energia che si può evitare anche con semplici accorgimenti che ognuno di noi può mettere in pratica. Quest'anno abbiamo voluto provare a rilanciare la nostra partecipazione non solo con un lavoro importante in diverse scuole elementari e medie della nostra città ma anche con un appuntamento che in qualche modo doniamo all'intera comunità e l'appuntamento sarà venerdì 13 a partire dalle 5 e mezza in piazza 20 settembre con i bambini, con gli studenti delle scuole elementari e medie e soprattutto con la presenza di una serie di artisti fanesi che insieme alle scuole hanno prodotto una canzone che in questo momento è la più votata nella campagna nazionale proposta da Caterpillar e che si candida ad essere l'inufficiale quest'anno della campagna nazionale L'inno ufficiale 2015, Sarà Fantastica, verrà eseguito dal cantautore fanese Luca Vagnini ma in piazza saranno presenti anche il maestro Giorgio Caselli e la banda cittadina Stefano Fucili che eseguì l'inno della passata edizione e la Borghetti Bugaron Bambu Grazie a tutti!